Romina Carrisi e la confessione sul padre Albano Nelle ultime ore madre e foglia hanno sorpreso tutti i loro sostenitori Stiamo parlando di Romina Power e della quartogenita Romina Carrisi Quest'ultima, infatti, ospite a oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha fatto delle confidenze inattese su Albano In poche parole la 34enne ha fatto sapere che per mesi non ha parlato col padre e c'è stato un riavvicinamento solo grazie a Ballando con le stelle La madre, invece, attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha voluto dare un annuncio a tutti coloro che la seguono sul noto social network Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la 70enne italo-americana La cantante statunitense nominata ambasciatrice di Mary Smills Nelle ultime ore Romina Power è tornata a far parlare di sé per un inaspettato annuncio che la stessa ha dato sui suoi canali social Attraverso il suo profilo Instagram, seguito da oltre 200.000 follower, la cantante statunitense ha informato quest'ultimi di un incarico inaspettato Di cosa si tratta? Nel messaggio in questione, infatti, è possibile leggere le seguenti parole scritte dall'ex moglie di Albano Carrisi Sono onorata di essere stata nominata ambasciatrice internazionale